Buongiorno a questo nuovo video, io sono Drey e oggi siamo su Clash of Clans, attacco con Moscerini No ragazzi, allora, siamo qui con 130 barbari e 4 giganti, giusto per avere uno scudo E vabbè, comunque, eccoli, al 4 tra l'altro Allora ragazzi, come vedete è un po' cambiato un bel po' C'ho tutte le difese maxate, tutto maxato, tranne il volano Che se ci riescono max, vabbè, poi anche le caserme e gli accampamenti e le mura Però, grosso modo, cioè questo villaggio è messo molto bene E sto pensando che dopo il volano mi faccio un TH7, giusto giusto Comunque, vabbè, tutte le truppe al 3, anche i maghi, perché fra 19 ore finiranno Poi, dopo, se riesco ad arrivare a un milione di visir Prima mi faccio il guaritore, che serve per degli attacchi E dopo farò la pozione dell'elettricità Bene ragazzi, ma adesso iniziamo Direi di trovare una partita E questo è un esperimento per vedere quale unità è più forte Però non attacco solo barbari, no Delle combo che vengono usate abbastanza In questo caso solo barbari, però possono essere altre cose Sì, ok Allora, questo è stupido Cioè, ma tanto Solo che c'ha le difese molto ben messe Allora Questo no Cioè, ragazzi, ho trovato certi con delle risorse allucinanti Cioè, può essere che adesso non li trovo Questo è 60.000 e 40.000 precisi, proprio TH7 Attacco, lo attacco Dai, lo attacco No Ma, no, dai Anche se sono tentato Voglio trovare magari un TH5 con un po' di risorse Non così Cioè, è forte che mi prende staccate le parole TH5 prende poi risorse dopo E mi appare robe Con un bordello di Questo non è niente male L'attacco Dai, lo attacco Dai C'ha pure il cannone messo a fare Oddio, oddio, oddio Tentazione, ragazzi, tentazione Sì, il cannone, il mortaio Tentazione Dai Lo so, ho fatto una cagata Che non Ecco, questo no Cioè, vabbè, anche se è semplice, no Ok 75.000 No È un TH7 Allora Ok Questo Guarda quante Quante mura Sprecato Questa è la posizione che uso io Però è sbagliata Perché quando Mi serve la Ok Ci proviamo ragazzi Cosa attacchiamo? A me serve l'elisir L'elisir Ok E poi non è tutto ragazzi Perché Io ne ho ancora una marea Da liberare Guardate No Ok Bene Metto anche Giganti Giochi ci sono Pozione di cura Per i maghetti Eh sì Per i maghetti Per i Barbari Ok ragazzi Lo stiamo devastando Cioè Bastano Ragazzi No Ragazzi Non ci sto credendo Questo si vede Che è appena cambiato Per questo Non ha molta roba Quante risorse Che gli sto fregando Quante Io mi chiedo Va bene Comunque Questo è un novellino Ma veramente Chi se ne frega Cioè Non so Se gli ho rubato Pure un po' Di Elisir Boh Vabbè dai Tanto Adesso Che fanno Nulla Va bene Poniamo Fine Allo scontro Bottino Niente male Anche se Un po' Basso Perché Cioè io Adesso Più che altro Per la sfida Però devo dire Che non è niente male Quindi Ne metto Direttamente Tre Ok Allora Mettiamo 44 E altre 43 Oh Lo so Sono matematico Lo so Grazie Grazie E Altre due cure Veramente Mix Spettacolare Vi chiede truppe Giga Al Tre Ragazzi Th7 Quanto gli abbiamo fatto Sono curioso Due stelle A un th7 Ragazzi Da oggi in poi Tutti quanti Ad attaccare Con 130 barbari Due cure E 4 giganti Al 4 Mio dio Lo so Che non è il massimo Perché Il potenziale Sarebbe Vabbè Oltre a tutto questo Sarebbe Un mortaio Anche la tesla C'è Che fa I gran culi Però no Aspetta No la tesla Non fa i gran culi Perché se acchiappa Soltanto un'unità Aspettate raga Mi sa che mi dovrò Informare Cioè Da quante Che non Entravo Nel negozio Voglio Saperlo Allora Sicuramente Tipo un mesetto Però Allora Ne trape Stregone Ne trapolata Sì sì Quando Ne mi costano Asvicinati Ok È un raggio Perché se no Scriveva Con il suo potere Oppure con il suo raggio Molti Vabbè Comunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un piaccio Commentate Iscrivetevi Io attaccherò Un altro TH7 Sperando Boh Non so Voglio vedere Quanto Riuscirò a fare Anche Boh Anche Boh Anche Boh Anche No Anche No E niente ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un piaccio Commentate Iscrivetevi Intrappoliamo Per questo Moratore Sì dai Tanto che ci facciamo Adesso Posso ottenere Solamente Tipo 20.000 Elisir A notte Finché Non finiscono Tutte le Fabbriche Tutti gli Estrattori In pratica Vabbè ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un piaccio Commentate Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti